Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Sammy basso il giorno in cui ha perso la vita aveva trascorso una bellissima serata con gli amici. Aveva partecipato ad un ricevimento assieme ad alcuni suoi amici, ad un matrimonio ed era stata una giornata allegra e spensierata. Sammy stava benissimo. Ad un certo punto nel corso della serata ha detto che non si sentiva bene, e per questo era stato portato nel parco della struttura ricettiva dove si trovavano per fare due passi. Mi manca il respiro, queste sono state le ultime parole di Sammy basso ai suoi amici prima che perdesse i sensi. Da allora il ventottenne scienziato non si è più rialzato. Gli amici hanno chiamato subito i soccorsi del 118, giunti con un'ambulanza ma per il povero Sammy non c'era più niente da fare. Era già spirato, drammatico il racconto del titolare del ristorante di Villa Razzolini Loredana d'Asolo, dove Sammy si trovava. L'uomo ha riferito di aver assistito ad una scena commovente e forte nello stesso tempo. La mamma di Sammy infatti teneva il figlio in una coperta, lo abbraccia e lo baciava in lacrime, provata dal dispiacere. Gli amici sono rimasti nella struttura ricettiva in lacrime fino a tardanotte. La mamma stringeva Sammy tra le braccia, in una coperta, piangeva e lo baciava. Era già volato in cielo, queste le parole di Sergio Dussin titolare appunto del ristorante. Una scena che l'uomo non potrà mai dimenticare.